Il Vivi Altotevere Sansepolcro ha vinto con il risultato di 1-0 la gara interna contro il Jolly Montemurlo, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie D, Girone E. Decisiva la rete messa a segno al 33esimo minuto della ripresa dal classe 1998 Alessandro Massai. Andiamo a sentire le interviste realizzate nel post-gara con i due allenatori Mezzanotti e Galardi. Partita molto difficile, equilibrata, dove le occasioni si contano veramente su dita di una mano. Abbiamo avuto alcune interessanti, una con Piccinelli, una con Cangi e una con Bracalenti, però alla fine è stata dura. Avevamo tanti ragazzi in campo, ho messo Alcalini a fare il terzino per portare a casa la partita e Mencagli che è una punta a fare la mezza da sinistra. Quindi si è del cuore, credo. Noi tutto l'anno che giocano i 99-98, però credo che se loro sono cresciuti così tanto, gran parte del merito vada anche a quelli che sono più anziani, ai più vecchi che li stanno aiutando tantissimo, da Beati a Cangi a Chiasserini, adesso sì, stanno dando una grossa mano a questi ragazzi, li stanno facendo crescere tanto e quindi penso che questo gruppo sia un gruppo importante. Poi certo, i risultati dobbiamo farli. Adesso facciamo Pasqua, facciamo Pasqua perché per questi ragazzi se la merita, lo smerito di fare una Pasqua serena. Tra virgolette anche gioiosa perché dopo tante tante vicissitudini siamo usciti sconfitti da Foligno facendo una buonissima partita, secondo me, e quindi tanta amarezza. Oggi abbiamo fatto tre punti per noi fondamentali e che ci permettono di lavorare bene e, ripeto, di far crescere questi ragazzi che sono giovanissimi. Direi che le motivazioni ce le abbiamo anche noi perché si viene da un periodo difficile e poi oltretutto eravamo in difficoltà difensiva, abbiamo cercato di fare la nostra partita comunque e secondo me l'abbiamo fatta. Purtroppo prendere gola al 35esimo circa, al 36esimo, non so, in contropiede a Sansepolcro mi dispiace. Questa è la cosa che mi rammarica di più. Credo che sinceramente non c'era altro modo probabilmente per prendere gol perché la partita si è vista a tutti. Sicuramente il risultato di 0-0 era un risultato regolare, giusto, secondo me, anche per l'età di gioco che abbiamo sviluppato noi. Quello che succede a volte in determinate stagioni non si può descrivere. Succedono delle partite dove perdi ingiustamente, come è successo a noi per esempio con l'ultima partita, con l'ultima squadra in classifica di Spoleto, che se avete visto filmati abbiamo avuto delle occasioni da chiudere con tantissimi gol. Niente, abbiamo perso quella partita, poi Gavorrano è una partita che ce la siamo giocata fino in fondo e di lì probabilmente è venuto a mancare un po' di tranquillità. Però insomma, noi credo che il nostro campionato sia quello di provare ad arrivare a raggiungere i play-off fino all'ultima partita e niente, di stare più tranquilli possibile. Come ci sono le altre squadre sopra ci si può stare anche noi. Però insomma, proviamo a vedere se si riesce a raggiungere i play-off che è il nostro obiettivo adesso e di finire un campionato dignitoso come merita la nostra società.